Terra, motori, salti e grandissime emozioni. E' questo il menù che verrà proposto il 23 e 24 settembre dal motoclub Fagioli di Cingoli nella competizione sidecar cross e quad cross delle nazioni europee. Il weekend sarà diviso in due, il sabato le qualifiche, la domenica la gara. Parteciperanno oltre 80 veicoli provenienti da 16 nazioni europee, più Argentina, Stati Uniti ed Australia a rendere internazionale la competizione.